ciao a tutti ragazzi video super veloce per annunciare la live di dicembre ultima live dell'anno live che andrà in onda qui sul canale martedì 17 dicembre ore 21 e 30 quindi rispondere un po le vostre domande insomma e tante altre cose quindi appuntamento martedì 17 dicembre qui in live ore 21 e 30 un saluto a tutti e ci vediamo in live ciao ciao ciao